Sono arrivati alle mie spalle, ho fatto in tempo a vedere che mi superavano, poi sono finiti contro l'albero. La testimona oculare dell'incidente mortale, in cui hanno perso la vita Mirko Manfredi e Jessica Marino, è stata sentita dai carabinieri della compagnia di Como, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto martedì sera nella strada che collega Como con Casnate Conbernate, via Socrate. La testimona era davanti alla vettura dei due ragazzi che avevano appena terminato di cenare dai genitori di lei. Quando mi sono accorta che arrivavano mi stavano superando, avrebbe detto la donna, ancora sotto shock per quanto accaduto. La Fiat Panda è poi scivolata giù da una riva per finire la corsa contro le balle di fieno che hanno ulteriormente alimentato l'incendio che si stava propagando. La ragazza avrebbe poi detto di essersi spaventata, di aver frenato e di aver chiamato immediatamente i soccorsi, soccorsi che poi in effetti sono arrivati in pochi istanti, ma purtroppo le conseguenze dell'incidente sono state fatali per entrambi i fidanzati. Grazie. Grazie.